Ciao, stiamo qua! Fermi! Sacchi di salsa! Sì, siamo in un giro, ora non abbiamo! Eeeh! Eeeh! Sì, abbiamo un giro, ora non abbiamo! Eeeh! Sì, non è che io non ho un giro, non ho un giro, non ho un giro. Non ho un giro, non ho un giro! L'espione, l'animale! No, 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 no! Grazie a tutti. Grazie a tutti.